Allora, oggi ospite molto gradito qui a Hotcorn, Emanuele Marini, regista dei giorni del destino. Ciao Emanuele, come stai? Ciao Andrea, io sto a Benone, qua a Torino c'è il sole e si prefigura una splendida giornata. Emanuele, noi ti abbiamo chiamato perché stiamo facendo una serie di articoli per la nostra sezione industry su Final Touch di IBM e tu sei stato uno dei registi che hanno potuto vivere da vicino questa esperienza due anni fa, giusto? Sì, due anni fa, nel 2019. 2019 che poi è slittata fondamentalmente nel 2020 perché è stato dicembre, no mi correggo, dicembre 2020, l'anno scorso, doveva essere in primavera del 2020 però per motivi legati alla pandemia ovviamente si è fatto slittare fino a che insomma il meeting, l'evento si è tenuto online con gli esperti che hanno seguito i progetti. Esatto, spiegaci cosa ha portato al tuo di progetto Final Touch, cosa ti è servito fondamentalmente? Allora, è stato uno step per noi fondamentale per completare il film, quindi come dice il titolo del progetto Final Touch, per dare l'ultimo tocco al film e quindi per la post-produzione. Siamo stati appunto selezionati per il progetto e c'erano diversi tutor esperti che hanno valutato ogni progetto, compreso il nostro, quindi dal montaggio al distributore. Anche la promozione, no? C'è anche il consiglio su dove posizionarlo. Sì, perché effettivamente Final Touch, almeno in quell'edizione, metteva in palio, forse continua a farlo, due premi. Uno vicino ai Chromatix per la post-produzione e uno della True Color per la distribuzione. Insomma, è andata in maniera inaspettata questa storia di Final Touch perché non abbiamo vinto nessuno di questi due premi, però in realtà abbiamo vinto forse inaspettatamente una grande occasione perché Florian Geiser di Cine Chromatix aveva molto amato il film e quindi siamo rimasti in contatto e lui ha coinvolto successivamente anche Mattias Skaic, che in quel periodo lavorava ancora con Amira Film di Merano, per subentrare nei costi di coproduzione. E quindi è stato incredibile perché anche se non abbiamo vinto il premio, però abbiamo vinto un coproduttore molto in gamba. E poi la Prodo ha partecipato completamente alla post-produzione del film, audio e video. Esatto. L'Approdo anche lì al Festival di Torino, dove è stato appena presentato il film, è stato un consiglio anche che è arrivato da Final Touch come posizionamento? In che senso un consiglio? Cioè, all'interno del laboratorio, insomma, della cosa che avete fatto, c'era anche l'opzione di dove presentare per la prima volta? Ah sì, beh sì, Torino in Italia è una delle piazze più importanti nel quale portare questo tipo di film, che ha un soggetto e parla di una storia che appunto a Torino poteva interessare. Diciamo che c'è stata anche sì la parte sulla distribuzione, speriamo ancora di poter raggiungere tutte quelle mette di cui si era parlato anche fuori Italia, Final Touch, che sono lì lì per doverci dire o sì o no. Certo, anche perché adesso il lunedì scorso è stato presentato lì a Torino e l'idea poi adesso è la distribuzione, che stai cercando ancora una distribuzione o ce l'hai? Sì, il produttore sta cercando una distribuzione internazionale, sperando di fare appiglio su comunque la forza, la tematica universale che racconta questa storia, che anche se è girata a Torino comunque non è ad uso e appannaggio solo degli italiani o delle persone che conoscono il quartiere. Anzi, è una storia molto universale in realtà. Senti, Manoel, qual è il consiglio che ti è rimasto più addosso di quelli che ti hanno dato Final Touch? Ce n'è uno? Allora, il consiglio che mi è rimasto più addosso? Bella domanda. Penso che i consigli più interessanti me li avesse dati l'esperto che parlava di montaggio. Ah. Sì. Ora non mi ricordo benissimo il nome, è una signora molto gentile. Il cognome è Custurizza. Ah, sì, Nina. Come? Nina Custurizza. Nina? Sì, Nina Custurizza. È stata molto attenta e ha dato dei consigli molto puntuali sul montaggio, che poi dopo ci sono serviti. E l'altro, effettivamente, che ci ha dato un gran consiglio, ora che mi ci fai pensare, è un, non mi ricordo il nome, anche lì, è di origini russe lui. Selezionatore, mi sembra, ha lavorato anche a Berlino, e ci ha consigliato, insomma, di raccontare un po' meglio il momento in cui lui, Paolo, il protagonista, sta perdendo la casa. E ci ha detto proprio l'espressione inglese che è come se tu presenti lì il regalo senza farcelo scartare prima. Quindi, quindi, quello, poi dopo ci ha portato a rifletterci, a dire, ok, perché quando uno monta un film che ha girato... Certo, c'è dentro e non riesci a vedere tutto. Certo, c'è dentro e magari dà più attenzione a altre cose in quel momento, quindi dici, ok, questo l'ho vista e rivista talmente tante volte che la butto lì così, e invece no. Esatto, esatto, che è fondamentale, anche quello, uno sguardo esterno che è quello poi di Final Touch. Senti, Emanuele, da Final Touch a Torino, che emozione è stata portare il tuo film lì e vederlo lì in sala col pubblico? È stata un'emozione enorme, perché non era scontato che uscisse in sala di questi tempi, soprattutto adesso. Anche perché comunque doveva essere in presenza, accompagnato al Festival di Bolzano, anche Final Touch. Quindi già era stato triste che non fosse andata così e che fossimo tutti là su questi riquadratini del computer online. Però, questa è la dimostrazione che la forza, insomma, di questo programma ha dato i suoi risultati e adesso essere qua in sala, no, è stata una serata che probabilmente non dimenticherò mai. È molto emozionante. Immagino, immagino. Allora, noi intanto, Emanuele, seguiamo il percorso di giorni del destino e a presto, a buon viaggio, come si dice in questi casi. Vai! Sì, grazie. Adesso ci saranno due repliche, questa sera alle otto e mezza, Cinema Greenwich a Torino e sempre al Cinema Greenwich, sabato alle quattro e un quarto. E quindi speriamo di continuare a fare il pienone. Assolutamente. Grazie mille Emanuele e Marini per essere stato con noi. Grazie Andrea Morandi per questa intervista. Grazie.